Sì, è una cosa che erano in un'altra parte di un'altra parte. Loro partecivano, come ho detto prima, il campionato italiano, un rally WRC, 2017, con una Renault Trio fatta da Michael Racing, con sei gare. Pensare che fino all'anno scorso neanche correvo e vederò adesso le persone che stanno credendo in me e stanno credendo in progetto Stanno credendo in tutto questo, mi darà veramente carica, io metterò il 110% di me stesso in questo progetto Secondo me è un'attima iniziativa per farci migliorare sia lui come pilota che me come naviga E non avremmo sicuramente potuto fare questo progetto senza l'aiuto anche dei nostri sponsor e di colirci su Stefano Quindi credo che possiamo avere un miglioramento enorme